Musica Con la celebrazione del mercoledì delle ceneri, iniziata oggi la quaresima, periodo forte dell'anno liturgico che ci accompagna verso la Pasqua di Ressurrezione. Il mondo del carcere interpella Verona, la città non può essere staccata dai detenuti che ne torneranno a far parte una volta scontata la pena e servono più opportunità di avviamento al lavoro. Da alcuni mesi nelle circoscrizioni del Comune di Verona ci sono gli sportelli di prossimità, un aiuto per la popolazione che deve destreggiarsi tra varie pratiche burocratiche digitalizzate. Ben trovati a tutti voi in questo appuntamento con Telepace News. Oggi, mercoledì, giorno dell'udienza generale del Santo Padre, che nella catechesi tenuta in aula Paolo VI ha parlato dell'accidia, la quale ricorda molto il male della depressione, sia da un punto di vista psicologico che filosofico. Tra tutti i vizi capitali, l'accidia, ha spiegato il Papa, spesso passa sotto silenzio, non se ne parla, forse a motivo del suo nome, che a molti risulta poco comprensibile. Si tratta di una tentazione molto pericolosa. Non scherzare con questa, il monito di Francesco. Il rimedio più importante per non cadere nell'accidia è la pazienza della fede. Nel pomeriggio il pontefice poi si è quindi arrecato presso la chiesa di Sant'Anselmo per la stazio, a cui è seguita la processione penitenziale verso la Basilica di Santa Sabina, dove il Santo Padre ha poi presieduto la Santa Messa con benedizione e imposizione delle ceneri. E con la celebrazione del mercoledì delle ceneri inizia appunto oggi la quaresima, periodo forte dell'anno liturgico che ci accompagna verso la Pasqua di Ressurrezione. Un'occasione di riflessione e di preghiera anche facendoci aiutare dal sussidio della Diocesi. Il servizio di Francesca Martini. Un periodo forte di preghiera, la quaresima iniziata con la celebrazione delle ceneri in ogni chiesa del mondo. Per la chiesa di Verona la preparazione alla Pasqua si arricchisce quest'anno anche di un altro grande evento, la visita del Papa il prossimo 18 maggio. Sicuramente la tappa fondamentale liturgica è la morte e la risurrezione del Signore, come per ogni quaresima, ma quest'anno c'è anche l'aggiunta di altri 50 giorni molto belli, quelli del tempo pasquale, perché questi ci portano alla Pentecoste e proprio la vigilia della Pentecoste, il 18 maggio, sarà presente nella nostra realtà di chiesa di Verona Papa Francesco. Evidentemente questa tappa non vuole essere solo un momento folcloristico, ma deve essere anche proprio una tappa per la chiesa di Verona tra il prima e il dopo visita di Papa Francesco. Ad aiutare i fedeli in questo cammino, un sussidio curato dalla Diocesi, l'immagine ripresa da una formella della Basilica di San Zeno, richiama la figura di Noè che riceve il ramo d'ulivo e che evoca il tema tratto dalla lettera di Paolo ai Romani, ovvero la missione del Regno di Dio costruito su giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Questa missione racconta anche la necessità della conversione verso un mondo, una chiesa, nuovi. Questa è la grande scoperta, oserei dire, di Papa Francesco. Facciamo una grande fatica a tutti a intravedere cosa ci sta aspettando dall'altra parte del mare. Ecco, forse il progetto grande che sta sotto a questa visita del Papa è che sia un punto di partenza questa visita per un risveglio della vita di fede, religioso e anche missionario ed evangelico della nostra Diocesi. Lo vedrei come ci racconta il nostro Vescovo Domenico nella sua lettera di presentazione un po' di questa Quaresima, i quattro punti li vedo appunto in questa gioia che dovrebbe essere un po' non tanto una facciata ma la scoperta che il Vangelo è una bella notizia. La seconda grande dimensione che mi sembra quella è di sapere che dobbiamo viverla come una missione di tutti e quindi ci mette gli secondi due punti, cioè essenzialità, basta tante robe ma le cose essenziali, in fondo il Kerigma sono soltanto tre giorni della storia della salvezza ma sono i più importanti, morte, sepoltura, risurrezione e questi tre giorni sono i giorni che segnano l'esperienza della fede e poi l'ultima che credo che sia altrettanto importante, il cambiare noi stessi e non pensare che deve cambiare il mondo. Papa Francesco in preparazione al Giubileo Pellegrini di Speranza del prossimo anno ha dedicato il 2024 alla preghiera. Accogliendo questa chiamata universale, il Santuario della Madonna della Corona propone nei sabati di Quaresima sei approfondimenti dal tema Signore insegnaci a pregare. Gli incontri si tengono appunto nei sabati di Quaresima, il Santuario della Corona spiazzi alle ore 16 e sono seguiti alle 17 dalla Santa Messa prefestiva. Il primo incontro sarà questo sabato 17 febbraio, il tema Gesù maestro di preghiera. Tiene la riflessione Don Martino Signoretto, Rettore del Santuario. Cambiamo argomento, parliamo del mondo del carcere che interpella Verona, la città, non può essere staccata dai detenuti che ne torneranno a far parte, una volta scontata la pena e servono più opportunità di avviamento al lavoro. Ce ne parla Marina Zarmann. Per venire incontro ai detenuti, per conoscere le loro necessità, è importante che Verona e i suoi cittadini entrino in contatto con il mondo del carcere, che non può essere una realtà a sé stante, divisa dalla vita della città, come sostiene il gruppo Sbarre di Zucchero. Io ricordo che qualche anno fa è stata fatta una giornata, un open day, proprio per permettere alle persone di entrare, quindi entrare e rendersi conto delle attività che si fanno all'interno, proprio viene fatto teatro anche da underloni, quindi a un livello importante, vengono farsi corsi di scrittura biografica. Ci sono delle storie che veramente andrebbero ascoltate. Primo, perché ci si rende conto che non sono tutti rapinatori seriali, ma persone che hanno avuto delle situazioni che li hanno portati in quella situazione. E secondo, perché non va tenuto a parte il mondo del carcere, perché le persone prima o poi escono, finiscono la pena e non devono essere riconosciute per il reato che hanno commesso, ma proprio come un'identità personale ricostruita da un percorso apposito. Un'altra priorità è quella di aumentare le possibilità professionali e di avviamento al lavoro che consentano alle persone detenute di avere un'opzione in più una volta uscite e un'occupazione positiva del tempo finché sono in carcere. Ma il lavoro aiuta il detenuto, prima cosa con l'impegno, perché invece di stare in cella tutta la giornata escono e hanno il tempo occupato. Secondo, responsabilizza, perché ti insegna il rispetto delle regole, il rispetto della produttività, il rispetto degli orari, e quindi una responsabilizzazione della persona. Le aziende che operano all'interno oggi sono pochissime. Personalmente, come sbarri di zucchero, chiedo alla città di Verona proprio di partecipare maggiormente in questa ricostruzione, perché c'è bisogno che il lavoro sia alla base del reinserimento, dei percorsi di reinserimento dei ragazzi. A partire da fine febbraio, all'interno degli ospedali di San Bonifacio e Legnago, aprirà Laboratorio di Estetica Oncologica, promossa dall'azienda Ulsanove Scaligera, insieme ad Apeo, Associazione Professionale di Estetica Oncologica, e il sorriso di Beatrice O.D.V., che ha agevolato la collaborazione. Il nuovo servizio mette gratuitamente a disposizione di tutte le persone affette da tumore e in trattamento nei reparti di oncologia dei due ospedali, un'equip di estetiste professioniste specializzate per migliorare la loro qualità di vita e il loro percorso di cura. Da alcuni mesi, nelle circoscrizioni del Comune di Verona, ci sono gli sportelli di prossimità, un aiuto per la popolazione che deve destreggiarsi tra varie pratiche burocratiche digitalizzate. Abbiamo intervistato Luisa Ceni, assessora alle politiche sociali e ai tributi, che ci ha anche parlato di un'altra iniziativa recente, quella sugli sgravi fiscali per le attività commerciali che destinano le eccedenze alimentari a chi ne ha bisogno. Sentiamo. Lo sportello di prossimità sono una serie di punti di accesso comodi ai cittadini, diffusi su tutta la città, sono una dozzina per il momento, dove il cittadino previo appuntamento, che può prendere tramite il numero verde, ci sono tutti i riferimenti sul sito del Comune, può accedere e avere un servizio di segretariato, di primo segretariato di orientamento, su delle cose basiche, su dei bisogni che spesso possono mandare le persone anche in agitazione. Mi riferisco ad esempio alla richiesta di uno speed, mi riferisco alla prenotazione di alcune visite mediche che devono essere fatte tramite le app, tramite le app del cellulare, che spesso, soprattutto le persone anziani, ma non solo le persone anziani, non sono in grado di espletare da sole. Ci sono poi una serie di servizi che possono essere facilitati, tipo ad esempio la prenotazione delle cedole librarie, nel momento in cui le famiglie si trovano col bisogno di prenotazioni, col bisogno di prenotare le scuole, quindi una serie di aiuti vicini alle famiglie, vicini ai bisogni. Parliamo adesso dello sgravio fiscale per gli esercenti che hanno beni deperibili. Abbiamo previsto, questo come tributi, una revisione della tariffa Tari dove viene previsto uno sgravio e quindi una riduzione del costo della Tari per chi recupera determinate eccedenze. Questo fa riferimento a un progetto che esisteva già e funziona molto bene sulla città che è il progetto Rebus, che però era limitato, il beneficio era ripetato a questo tipo di progetto. Invece abbiamo inteso ampliare e quindi permettere a chiunque questo tipo di possibilità. Perché? Perché ci sono tante aziende che devono smaltire e ci sono tanti enti del terzo settore che hanno bisogno di ricevere. E soprattutto c'è bisogno di ridurre lo smaltimento dei rifiuti. Quindi un po' tutto che possa essere un'agevolazione che ricade e che dà beneficio a tutti i cittadini alla fine perché a chi smaltisce e a chi riceve. E questa domenica 18 febbraio alle 15 la Comunità Ebraica di Verona e il Consiglio delle Chiese Cristiane propongono una riflessione a due voci in occasione della 35esima giornata per l'approfondimento e lo sviluppo del dialogo ebraico cristiano. Dal tema figlio dell'uomo potranno queste ossa rivivere? Dal libro di Ezechiele. L'incontro si trà presso la sinagoga di Verona. Intervengono il rabbino Tomer Corinaldi e il vescovo Domenico Pompili. Oggi 14 febbraio San Valentino a Verona colorata di rosso per l'occasione impazza la festa degli innamorati. Tante le iniziative pensate in città dove per chi si presentava in coppia sia alla vista panoramica della Torre dei Lamberti come pure al Museo di Casa di Giulietta o alla funicolare di Castel San Pietro vigeva il Paghi 1 Entri 2. Cuore della manifestazione come sempre Piazza dei Signori che anche quest'anno nel pomeriggio e serata di oggi ospitato presentazione di libri, il concerto di The Fools senza dimenticare poi la mostra allestita alla Galleria d'Arte Moderna Achille Forti da oggi fino al 7 aprile dal titolo Segni di Cura. Abbiamo sentito Alessandra Dibiti organizzatrice di Verona in Love. È stata una giornata bellissima, molto viva finalmente il tempo ci ha graziato perché purtroppo il weekend ha visto la pioggia ma comunque pubblico ce n'è stato. Abbiamo avuto la presenza di 50 bambini del Coro d'Oro perché l'amore è l'amore per i bambini ma soprattutto l'iniziativa di EMPA dedicata all'adozione dei nostri amici a quattro zampe in particolare al cane Elsa un bellissimo lupotto che appunto è pronto all'adozione quindi dico a tutti andate ad EMPA perché Elsa è pronta per voi insieme ad altri amici a quattro zampe. Successivamente un bellissimo meeting grid con Subsonica per la presentazione del nuovo album tantissima gente, veramente un clima veramente veramente bello. Lo spirito che anima Verona in Love beh sicuramente quello di raccontare la città di Verona come un grande contenitore culturale dove si collabora insieme e dove l'amore è rappresentato in tutte le sue forme l'amore per gli altri con le associazioni di volontariato l'amore per i piccoli con il coro d'oro l'amore per la sostenibilità con Ti racconto un albero e molte altre iniziative l'amore per l'arte con la danza lo spettacolo e la musica l'amore per la conoscenza con la rassegna in collaborazione con Feltrinelli che ha ospitato davvero dei nomi molto importanti della letteratura nazionale. Questo per quanto riguarda la città di Verona mentre in provincia a Parone è andata in scena la 56esima edizione della Festa della Renga il tradizionale appuntamento legato ai festeggiamenti del Carnevale promosso dal Comitato Benefico Festa della Renga in collaborazione con il Comune e la seconda circoscrizione. Con questo è tutto io vi ringrazio per l'ascolto Buon proseguimento con i programmi di Telepace